Ciao, 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 creatura. Oggi, come sempre a grande richiesta, leggiamo il catalogo dell'Ital Deluxe Deluxe. Una buona Pasqua per tutti. Offerte valide dal 18.03 al 24.03. 2019, specifichiamolo. Il catalogo, il Teplian, ha questa prima parte verde, quindi la noto subito, mi piace, con tutte queste decorazioni di floreali, diciamo così, ma molto semplici. È solo un outline del disegno, è blu di fiori, molto primaverili perfette, la decorazione perfetta per la primavera che spero inizi a sbocciare, perché voglio il caldo. E c'è anche una coccinella, portafortuna, e c'è la scritta Pasqua con le orecchiette del coniglio e questo uovo dorato. Non abbiamo mai analizzato le grafiche del Teplian, mi è venuta voglia di farla in questo momento. Se ti piace l'idea, famelo sapere. Ah, c'è un altro coccinella anche qui, è un po' più piccolo. Ok, andiamo a vedere il catalogo, i prodotti che ci offre quest'anno il Lidl per il nostro periodo primaverile e pasquale. Allora, ci sono i prodotti della Deluxe, che a me viene da leggere sempre Deluxe, ma nella pubblicità dice Deluxe, quindi mi attengo alla pubblicità originale del Lidl. Culatello affettato, 2,99€, poi ci propone, penso che siano proposte per il pranzo di Pasqua e forse perché no anche il picnic che spesso si fa a Pasquetta, volevo solo dire così, che quest'anno Pasqua sarà il 21 aprile e wow è il mio compleanno, cioè è la prima volta che capita, è capitato una volta che il mio compleanno era Pasquetta, ma adesso sono capitata anche con Pasqua e mi fa rite, comunque. Astice americano, 8,99€, quindi ci propone sia della carne che del pesce, dei crostati. I gnocchi ripieni mi piacciono tantissimo, gnocchi ripieni con un salmone a 1,49€. Poi mi ho presi due. Qui dice una... non stai vedendo? Un attimo. Qui dice una Pasqua di sorprese con deluxe ogni giorno, un premio diverso tra un Huawei Mate 20 Lite, l'ho letto in modo professionale, poi uno smartwatch Samsung a 6, 7, 5, iPad, Apple. Ah, poi 7, Samsung Galaxy a 9, 8, c'è scritto carnet di buoni spesa da 500€, voglio questo, 4 TV LG 55, andiamo a leggere il concorso perché mi incuriosisce. Allora dice, dal 18 marzo al 23 aprile fai una spesa di 25€ con due prodotti deluxe inclusi, in valio un premio diverso ogni giorno, vai su www.lidl.it, inserisci i dati del tuo scontrino e scopri se hai vinto. Partecipare è facile, vai su www.lidl.it, scopri come giocare, inserisci i codici A, B, C, l'importo del tuo scontrino, codice D. Qui, qua, il quale mostra, ma sicuramente anche nel sito c'è qualcosa che ti spiega come fare, ci sarà un'illustrazione. Il numero di prodotti deluxe acquistati nella pagina di registrazione del sito del concorso, scopri subito se hai vinto uno dei premi messi in palio, inoltre potrai tentare la fortuna più volte nel seguente modo, con 50€ di spesa e 4 prodotti deluxe, avrai diritto a 3 giocate e così via. Conserva lo scontrino di vera richiesto per covalidare l'eventuale vincita. Vincita, ancora dentro, eh scusa se ho questa voce nasale, ma ho un mega raffettore. A distrazione finale, una BMW X1, ci piace, grande l'iter che ci fai questi concorsi. Sacchettini o tortelloni al tartufo con fontine e spinaci con uova da galline allevate a terra. A 0,99, allora il tartufo non mi piace, ma fontine e spinaci, sì, quindi approvati, metto in mezzo. Tortelloni ripieni con ricotta e spinaci o ai funghi. 0,99, wow. Sono i tortelloni al nero di seppio con ripino di salmone, questi mi fanno un sacco voglio, ma sono neri già. 1,19, non so se l'ho detto, poi panzerotti con gamberi e polpa di crancho, 1,49, buoni. Caponata di melanzane a 0,99. Pesto, ma un pesto strano. Ah, ok, è un pesto rosso con peperoni e ricotta, oppure al tonno o con funghi. Ah, 1,59, sai perché ho detto così? Perché di solito quando leggo pesto mi viene in mente quello di nuovezze, ma in effetti si può pestare qualsiasi cosa e farlo diventare un stucchetto, no? Di perlino non ce l'ho pensato. Ma ti la verità è che quando leggi il pesto anche a te viene in mente quello di basilico. Pateti, funghi, porcini, melanzane, wow, devono essere proprio buono, 1,99. Salsa con tartufo, 2,49, non mi piace però, vabbè. Pateti, olive, taggiasche, buono, taggiasche, taggiasche, 1,79, mi piace. Pateti, carciofi, carciofi non mi piacciono, 1,29. Condimenti a base di olio extravergine d'oliva, 2,99 euro. Sono anche carini nelle loro bottiglie con dentro, credo ci siano delle erbe, chiamarle così, non lo so, però sono belle anche da vedere. Asparagi verdi grigliati, che buoni, gli asparagi, io preferisco quelli verdi. E a te quali piacciono più, quelli verdi o quelli bianchi? In agrodolci, 2,19 euro, però li preferisco normali, quelli al vapore, poi c'è di così, insomma. Anche Sam li adora, lo so che sembra strano, ma è così. Risotto carnaroli, 1,49 euro. Allora sono già pronti quelli, credo, gli ufilizzati, che vanno, se va aggiunto solo l'acqua, si va poi, come si fa così, alla fine ho il prodo l'acqua, come il risotto normale, solo che qua ha già i pezzi dentro di cose del decimo, non so, già conditi, là. Quindi sono al gusto radicchio, oppure con funghi porcini, oppure funghi champignon e tartufo, oppure con asparagi verdi, prenderei quelli con gli asparagi verdi, a 1,49 euro. Poi, pate di cipolle e tonno, oddio, deve essere un po' pesantuccio, però lo assaggerai. 1,49 euro, poi la crema con aceto balsamico di Modena, IGP, a 1,49 euro, poi tarallucci al pomodoro e origano, o pancette e cipolla, no, voglio quelle pancette e cipolla, devono essere buonissime. 0,99 euro, poi gnocchi ripieni al pesto, o radicchio e scamorza, se voglio quelli al pesto, a 1,49 euro, quelle sicuro li prendo e li mangiamo. Ravioli con carne brasata, buoni, o con ricotta e pistacchio, voglio entrambi, 1,20 euro, no, queste cose mi dispiace, le comprerò tutte. No, mi fanno troppo voglia del giunglo, taglio linea nero di seppia, 0,79 euro, caserecci con farina di grano saraceno e ripieno alla presaola, mi fanno voglia anche questi, 1,49 euro, stai vedendo, creatura, poco poco, poco poco. Poi, pizza con porcini e tartufo, ma perché mettete questo tartufo, schifo questo tartufo ovunque? Poi, sformatino di patate, 2,29 euro, con panna, i broccoli, questo fa voglia, sono quelli sul gelato, sformatino di patate con panna e formaggio, mi fa voglia anche questo, 2,19 euro. Poi, qui abbiamo formaggio in foglie di castagno, cioè, voglio assaggiarlo, 2,99 euro, wow, e non lo so leggere, credo sia francese, formaggio francese, formaggio francese a pasta molle, 2,49 euro, camembert, formaggio a pasta molle di latte vaccino, pastorizzato, 1,99 euro, queste io le amo, sono tornate, le compro sicuro, anche se sono un po' care, ma sono buonissime, te lo giuro. Chips di verdure con sale marino, 1,49 euro, sono troppo buone, soprattutto quelle di barbabietola e di carote, io adoro, sono buonissime. Sono come patatine fritte, solo che sono fatte con le carote e le barbabietole e, se non sbaglio, c'è anche la patata, ma anche, non lo so, non lo so, sono sicura che la barbabietola, che è la mia preferita, e la carota è la mia preferita, tra tutte, tra la barbabietola e la carota, preferisco la carota, però a secondo posto barbabietola è fantastica, perché sia salata che dolce, poi ci sono i borgini tagliati a cubetti, perfetti per molte ricette, a 2,49 euro, patate duchesse, che mi piacevano tanto, con questa forma quando ero piccola, il contorno spizzoso per ogni piatto, che alla fine sono come, è come l'interno delle crocchette, solo che sono fatte così, con la saca poche, le fanno con questa forma molto elegante, 0,99, come antipastino, insieme a qualcos'altro, lo vedo bene, poi abbiamo, forse tu hai il riflesso della luce, no dai speriamo di no, crocchette, con formaggio, e quel formaggio lì, che non so leggere, e parmigiano reggiano top, 1,99, devono essere proprio buoni, qui volendo puoi trovare tutto per fare antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, per il giorno di Pasqua, o anche per il picnic di Pasquetta, se farai il picnic, oppure anche se mangi in casa, però fai anche bella figura, perché sono cose, capito, sono, mi sono capito da sola, molto bene, allora, salmone in pasta sfoglia, questo l'ho già provato, è molto buono, ce lo avevano, magari non così, non costava così tanto quanto l'ho preso io, forse non era deluxe, però l'ho mangiato uno simile al Lidl, e con uova da gallina levata all'aperto, in due deliziose preparazioni, forse erano più piccolini, non erano così, non erano 700 grammi, erano più piccolini, li mettevo in forno e mangiavo, erano buonissimi, a 7,99, abbiamo finito, c'è vicino che striscia i mobili, massancolle tropicali, wow, 4,99, 200 grammi alla confezione, dopo c'è questa parte, andiamo a leggere dopo, poi polpi indopacifici, 3,99, i polpi sono buoni, solo che io li facevo proprio, cioè li prendevo anche in pescheria, non surgelati, il brutto è che li prendi, sembrano giganti, poi li vai a cucinare e diventano piccolissimi, quindi, sotto è di mare, questo lo so leggere, 2,99, con cosse, fungole e gamberi, a me le cosse e le fungole non piacciono, però, se c'è solo quello, le mangio, ecco, poche parole, perché ho fame, quindi, e poi, su con gli scampi, per primi piatti e risotti, a 2,99, massancolle tropicali, con guscio, prive di testa, a 12,99 euro, purtroppo queste cose costano tanto, ma sono molto buone, filetti di acciuga, d'acciughe, a 4,49 euro, a me piacciono, cos'è che non mi piace, c'è, mangio anche quello che non mi piace, vabbè, succo, salmone e gamberi, ricco e gustoso, 1,49 euro, questo fa molta voglia, poi, nonché si è imparato a farlo da sola, e, ormai, chi mi fermò più, qua abbiamo la pizza con fichi, col consolo a top, mi fa voglia, non ho mai mangiato, 2,49 euro, pizza al salame piccante, che è una delle mie pizze preferite, è 1,99 euro, hanno cambiato, è sempre Taverna Giuseppe, ma hanno cambiato il packaging, anche se, devo dirti, questa è in edizione limitata, per quello, forse, hanno cambiato il packaging, le confezioni, di solito, della Taverna Giuseppe, sono verdi, se non sbaglio, e se qui hanno fatto questa, come edizione limitata, hanno fatto beige, un po' più elegante, vero? Sì, poi, abbiamo sempre in edizione limitata, lasagna, salmone e spinaci, no, ma, devono essere buonissime, 2,99 euro, e le patatine con buccia, aromatizzate in diversi gusti, a 1,29 euro, queste, credo di averle assaggiate, quelle al miele, e sono veramente buone, qua c'è il sale marino e il bibi, e qui abbiamo al chili dolce, non so tradurre chili, e stai vivendo? Non stai vivendo niente? Ma come? Si mi è toccato adesso, bene, bene, sai perché dico bene? Perché qua siamo passati ai dolci, qui passiamo ai dolci, perdona l'inquadratura, voglio che tu veda al meglio, ma se a volte non vedi, perdonami, torta alla panna con uova da galline allevate a terra, squisite, si a terra appunto, sembra che le uova, beh le uova sono squisite, ma le galline squisite, va bene, squisite a scelta tra diversi gusti, 4,99 euro, mi fanno voglia tutte, anche se non ho letto che cosa hanno, te lo giuro, no, io preferisco di più il salato che il dolce, però non mi dispiace mangiare anche il dolce, rotolo di gelato, beh non puoi dire che, c'è dei peli di semi attaccati, non puoi dire che non faccio, cioè non puoi dire no, non mi fanno voglia, perché dai queste confezioni attirano parecchio, insomma il grafico ha fatto bene il suo lavoro, devo dire, perché mi fanno molta voglia, sono molto attraenti, rotolo di gelato farcito a 4,49 euro, direi che fa voglia, soprattutto con questi pistacchi sopra, se sono pistacchi, ma credo di sì, dessert a base di pan di spagna con mousse al limone o al cioccolato, fanno voglia entrambi, esatto, 2,49 euro, cheesecake, dessert su biscotto, fanno voglia anche questi, 1,79 euro, poi crema spalmabile, queste le adoro, te lo giuro, io ho preso, prendo spesso quando c'è, questa qui che è latte e cocco, e assomiglia molto a quella bounty, costa decisamente meno, costa 1,49 euro, quella bounty costa su 4 euro, per essere generosi, anche di più a volte, quindi te la consiglio, quella lì al latte, si chiama crema al latte, ma dentro ha anche il cocco, e ho assaggiato anche questo allo zucchero caramellato, è molto buono, gli altri non li ho mai trovati, perché questo è al cacao e al caffè, quindi io non posso, e questo invece è nocciole o qualcosa, credo che sia tipo nutella, ma non posso dirlo perché non l'ho mai assaggiata, non l'ho mai trovata proprio, e quindi, niente, se ti capito, se sei cocco in uomo, prendi questa, se non l'hai mai assaggiata, è come quella di bounty, fida di me, ma io ho detto cavolate, poi, dessert con yogurt e quark, che è un formaggio, se non sbaglio, su base di pan di spagna, con salsa mango e maracuja, maracuja, che è il pessimo fruit, se non sbaglio, o la ribes nero, allora io se lo trovo, 1,49 euro, mi prendo quello al mango, perché deve essere proprio buono, mango e maracuja, spero siano grandi, perché 1,49 euro, insomma, ma deve essere buono, sai? Creme brulee, il dessert coloso per le feste con uova da gallina levata all'aperto, 1,49 euro, beh, questo è buono, tordini al cioccolato, mamma mia, 1,79 euro, corri piano morbido di cioccolato fondente, quanta voglia ti sto facendo venire, e non lavoro neanche per l'idl, cioè, voglio dire, se sei in preciclo, mi dispiace, perché avrei voglia di tutto, io non lo sono, ma nonostante ciò, mi fa voglia di tutto, colomba classica, incartata a mano, addirittura, 4 euro, 99, poi abbiamo la frutta ricoperta al cioccolato, 2,79 euro, in realtà la frutta ricoperta al cioccolato non mi fa tanta voglia, perché a me la frutta piace così semplice, o frullata, anche in questo periodo, lo so, ti dirò, ti dirò cosa sto combinando, arance candite ricoperte di cioccolato fondente, 1,99 euro, e praline ripiene, deliziosi tartufi, in diversi gusti, a 2,79 euro, e le unici tartufi che mi piacciono sono queste, dessert alla frutta, 0,99 euro, oh mio dio, manco, questo fa molta voglia, è gelato variegato, già porzionato in moderne coppette, wow, quadrangolari per essere gustato in compagnia, ma che buono, 3,90 euro, è caro, ma è bello, cavolo, si può vedere che gusti ci sono, no, da qua non riesco a leggerlo, soffiarmi di nuovo il naso, specialità di miele, mille fiori e zenzero, 2,49 euro, non mi piace il miele, quindi non potrò presentartelo al meglio, bisfrolla con confettura di mora rossa e mirtillo nero, o con crema di cioccolato alle nocciole di gianduia, wow, 2,99 euro, stavo dicendo 2,49 euro, ma no, queste sono ancora le edizioni limitate che ci offre quest'anno il Lidl, e 2,99, va bene, tirami in su al lampone, e dessert foresta nera a 0,99, questi mi fanno voglia, e più che il Lidl mi fanno voglia la foresta nera, va bene, dita così, va voglia a tutti di foresta nera, ma non ho mai assaggiato quel dolce, quindi se lo trovo vorrei provarlo, vorrei prenderlo per provarlo, qui mi attira questa parte con scritto il cioccolato da Lidl è sostenibile, questa marca di cui non so per la pronuncia, e UTZ assicurano migliori condizioni di vita agli agricoltori e pratiche agricole rispettose dell'ambiente, beh, non male, poi, allora, la favorina che è qui, oh, non vedi, aspetta, vedi qua, ok, quella è la marca di, il brand, di queste delizie cioccolatose a tema Pasqua, o comunque a Lidl, cioè quel brand lì, che è la marca, il brand è la marca, perché non lo sapesse, ma penso che lo sappiate, comunque, coniglietti di cioccolato, 10 coniglietti di cioccolato al latte, 1,29 euro, coniglietti di cioccolato al latte, questi sono coniglietti, sono 10 a 125 grammi, invece questo è uno grande a 150 grammi, a 89 centesimi, mi sono un po' imbiliata con i parole, coniglietti di cioccolato fondente o al latte, 0,99, poi, monete di cioccolato al latte, 0,99, da piccola mi piacevano tantissimo, ma tu non le stai vedendo, eccole qui, ovetti di cioccolato al latte, gli ovetti io li adoro, quelli piccolini così, più che questi conigli, 1,49 euro, e ovetti di cioccolato ripieni con crema, ecco, quelli ripieni ad uova, coniglietti di più, a 1,79 euro, poi, uova di cioccolato al latte, mix di irresistibili cioccolatini pasquali, a 2,99 euro, se tu compri un sacchettone così, e poi li dividi in sacchettini, puoi fare dei regali, sacchetto pasquale, cioccolato al latte, 1,69 euro, di vari soggetti, 1,69 euro, gallina pasquale al cioccolato, con uvetti di cioccolato, 2,99 euro, poi, colomba classica, a 3,99 euro, e, io prenderei di più quella deluxe, però, uovo di cioccolato al latte, con sorpresa per bambini, o bambine, sai che questa cosa non mi piace, però, il fatto di distinguere per bambini, per bambine, non ti ricordi gli altri miei video? Eh, vabbè, 3,99 euro, eppure c'è, questo che è più piccolo, a 2,49 euro, poi, colomba alla crema chantilly, se l'ho detto bene, con copertura di cioccolato fondente, 3,69 euro, colomba al cioccolato, con farci 2, copertura di cioccolato, 3,69 euro, mi piace come dico cioccolato, colomba senza glutine, ecco, queste sono delle novità, colomba senza glutine, con uvetta, cioè, già è senza glutine, abbiamo anche con uvetta, vi uccideranno, 3,89 euro, scherzo, a me l'uvetta non piace, comunque, vedi, questa marca qui, fa latte anche senza lattosio, se non sbaglio, che infatti ha, fa anche il burro, e la panna senza lattosio, e ha sempre la confessione, bianca e arancione, se non sbaglio, ma scrivono nei commenti, se sbaglio, e figure pasquali, figure di, di M, da pensare, figure pasquali di cioccolato, e con vari soggetti, sarò 99, poi, mini figure di cioccolato al latte, 1,69 euro, abbiamo, i pulcini, i conigli, i ranocchi, i ranocchi sono carini, perché sono verdi, animali, ebbè, un fiume, animaletti di peluche, con cioccolatini, ma che carino, 5,99 euro, qua, tanti bambini lo vorranno, sono sicuri, oh, bene, qua, si va, sul serio, abbiamo i prodotti deluxe, selezione gambero rosso, gastronomia, Lidl, selezione gambero rosso, in esclusiva, solo da Lidl, i nostri migliori qualità prezzo, talometri 18,03, abbiamo, qui nel catalogo, ah, ok, sì, leggo solo questo, di là, no, perché sono le offerte settimanali, allora, troviamo, pappartelle, ripiene, porcini e tardufo, abito, caschetto, non prenderle, 1,99 euro, tutte cose al tardufo, no, delusione, taglioline al tardufo, e 1,49 euro, in me non posso provarli, misto funghi, con porcini e spec, wow, 1,99 euro, via, tardufo, vuole dei piedi, la hega dell'antitardufo, per eccellenza, non mi piacciono, i tardufi, c'è un po' che cose che non mi piacciono, tardufi, carciofi, cetrioli, cacperi, queste cose non mi piacciono, il resto mangio tutto, più o meno, poi non so, magari qualcosa mi è sfuggito, sicuramente, battuto di olive, leccino, non so cosa, non le ho mai assaggiate, ah, con giù che i capperi, 1,49 euro, ecco, vizioni i capperi, ma le assaggiano è lo stesso, succo di orata, si è mischiato, sì, succo di orata, con popotori secchi, olive taggiasche, taggiasche, senti come ASMR, cioccolato, taggiasche, mamma mia, altra volta ho trovato una parola, non me la ricordo più, ho trovato due parole che stavano insieme, ricotta, prosciutto e ricotta, credo fossero questi, prosciutto e ricotta, cioccolato, taggiasche, mamma mia, vorrei fare un video solo, comune di queste parole ripetute, 1 euro, ecco il gozzolo, 1 euro e 99, peperoncini macinati, in olio extravergine d'oliva, 1 euro e 49, risotto carnaroli, al nero di seppia, o camperetti carri, camperetti carri, io lo voglio troppo, 1 euro e 49, lo vorrei, gelato alla nocciola del Piemonte, cippi, delizioso, con granella di nocciola, a 0,89, e gelato al pistacchio di Sicilia, deve essere buonissimo, io odoro il pistacchio, 0,99, delizioso, con granella di pistacchi, wow, è anche verde, cioè, adoro, ti stai anche divertendo, oltre che rilassando, vero, mi fa molto piacere, perché anch'io uguale, come te, eh sì, vediamo qua, queste cose sono le offerte settimanali, ti dico, guardo, una breve sguardo, se c'è qualcosa che ti interessate, però, per adesso no, mi si è cantato, ecco, beh, in realtà, è un po' tutto interessante, ci sono dei neri, dei buoni sconti, buoni sconti, nel senso che sono sconti buoni, ma non, non buoni sconti coupon, sì, in realtà, sono un po' così, andiamo, una cucina da Viri Chef, wow, che carino, la fettatrice a spirale, però, sì, 2,29 euro, e la friggitrice ad aria calda, ecco, questa non l'ho ben capita, perché, o friggi con l'olio, oppure fai le cose al vapore, cioè, sono confusa, quantità gli dovrò fare, perché continuo a star nutti l'accidente, comunque, qui dice, per friggere senza l'aggiunta di olio grassi, tecnologia alogena, di riscaldamento, con ventilazione, per tempi di cottura più brevi, ma, io non ci credo tanto, sinceramente, comunque, a 89 euro, io non ci credo, mi dispiace, allora, poi, doppia piastra, ad induzione, a 69 euro, io non mi trovo bene, con questa di induzione, però, ognuno, insomma, è abituato in modo diverso, poi ci sono questi pollitori elettrici, che fanno molto bene, perché, fanno pulire l'acqua, molto rapidamente, a 19,99, sono anche colorati, non ce l'ho io, però, l'ho usato per un periodo, non a casa mia, e, cioè, sì, e, sì, è molto funzionale, cioè, non nella casa in cui sto attualmente, ecco, in questa frullatura di immersione, ti dirò, io ce l'ho, ma non mi trovo per niente bene, no, nei video, fanno vedere che frullano le cose, ci mettono un secondo, io ci metto una vita, non so, se sono io in prenauta, che potrebbe essere, ma non mi trovo per nulla bene, mi trovo molto meglio con quello che ho adesso, che, ciao, ecca a te, frullati come se non ci fosse un domani, ma ti dirò più avanti, sempre se vuoi saperlo, comunque stanno entrambi a 19,99 euro, qui c'è, dal lunedì 18 marzo, preparati alla Pasqua, e ci sono delle decorazioni pasquali, decorazioni di primavera pasquale, 1,49 euro, molto da bambini, però non mi piace come stile, sinceramente, decorazioni pasquali in legno, ecco quelle in legno gialli, preferisco di più, decorazioni pasquali in terracotta, mi sembrano un po' inutili, io preferisco, decorazioni formali a mano, però, ognuno fa come crede, poi c'è delle candele, che però, se non sono profumate, non mi piacciono, set per difingere le uova, ecco, queste mi piacciono di più, e quando ero piccola, ci facevano sempre, non lo stai vedendo, quando ero piccola, ci facevano sempre, dipingere le uova sode, quindi, se avete dei bambini, o anche se voi, andate a fare il picnic, di Pasquetta, e fate le uova sode, come, cosa da mangiare, oltre a tutto il resto, e, fategli, pitturare le uova, perché, gli resterà un bel ricordo, e anche è divertente, insomma, poi, set uova decorative pasquali, cestino decorativo in feltro, non mi piacciono tanto queste cose, sai, no, non lo so, non lo so, non mi ispirano molto, carta da regalo, sacchetto regalo, ma per cosa, per quale regalo, per il mio compleanno, allora, ok, poi c'è, questo, striscia, centrotavola, questo è carino, in effetti, sai, 3,99 euro, e 7, paglietti, 4 pezzi, 3,99 euro, questi sono carini, perché, non è solo pasquale, primaverile, c'è l'uccellino, ci sono, c'è questo ramoscello, con questi fiori, questi sono fiori di ciliegio, oh, giochi all'aria aperta, finalmente, perché i bambini, stanno sempre in casa, a giocare, con, altre cose, ci sono i monopattini, bicicletta senza pedale, poi ci sono delle altalene, degli attresti da giardino, per bambini, attresti da giardino, giocattolo, per bambini, ma che beh, per bambini, maschi e femmina, giusto? Eh, 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 poi abbiamo amore per l'auto, mi sembra giusto, e queste cose, già, le ripropongono varie volte, quindi non stiamo qua a guardare, però il giocattolo, profumato, lo prendo, un'ora e dici a noi, se lo trovo, vediamo, frutti di bosco, mi ispira, tu cosa dici? Ma che altro non riesco a leggere, cioè, fiori d'arancio, credo, fiori d'arancio, e angelica, con questi, quindi non riesco a girare le pagine, ma devo indossarli per favore, ok, poi, copri sedili, telecamera, endoscopica, con display, e dopo, vabbè, non ci interessa, se ce l'ho la macchina, non me ne riga molto, ci trovo, mi piace vedere, il cibo, poi, aspirapolvere, robot aspirapolvere, ma questo è troppo, vediamo il pollice, verde qua, che cosa ci offrono, allora, ci sono arbusti ornamentali, piante da bacca, 1 euro 99, c'è lamponi, allora, mirtillo, uva, spina, ribes, lampone, mora, wow, buon prezzo questo, piantine di fragole, wow, 4 euro 29, buon caro, anche se, ci sta, di riccio, persimile, piante aromatiche, roto dentro, roto dentro, roto dentro, roto dentro, roto dentro, 4 euro 49, piante verdi, 4 euro 99, camelia, 12 euro 49, piante da giardino, 2 euro 99, fertilizzante liquido, per rose, 1 euro 49, rose a busto alto, 5 euro 99, rose da giardino, 2 euro 99, basta, poi abbiamo il super weekend, che abbiamo, prosciutto cotto, prosciutto cotto, di praga, alta qualità, fumicato, con legno di faccia, a 1 euro 11, a una gara di buonissimi, a 2 euro 79, la coca cola, regular, 2 euro e 39, l'emmental, no mancimi, oggi, M, a 1 euro e 65, carne bovina, 3 euro 99, la pazza, qualità rossa, 4 euro 25, vendita, i cartoni, 18 lattini, di cui 6 gratis, 6 euro e 24, ti ho fatto la chiusura, super rilassantosa, così adesso puoi andare a dormire, puoi chiudere i tuoi occhi, e sognare, cosa ti comprerai la prossima volta, lì, secondo me, ti sogni me, non sarò, un cupbroker, allora, buonanotte, creatura, fammi sapere, ho dato quello che vuoi, anche se hai qualche video scristo, spero che mi passi presto, raffreddore, tutt'altro, perché ho dei roleplay, programmati da filmare, in modo abbastanza, professionale, secondo il mio punto di vista, sì, ho anche i costumi, quindi, mi sono attrezzata bene, spero di riuscire a farlo, a farli, e, però ovviamente, mi sono proprio ammalata, che fortuna, vabbè, dai, troppi spazi, temperatura, capita anche a te, in questi giorni, sì, stai aspettando che arrivi il caldo, io sì, lo voglio, sto provando il caldo, in questo periodo, sì, davvero, veramente, allora, promiamolo insieme, buonanotte, creatura, grazie per avermi tenuto compagnia, come al solito, grazie, buonanotte, 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 buona notte dormi